L'Italia preunitaria mette in luce prevalentemente la pluralità dei luoghi e delle idee che concorrono al processo unitario. Un'idea di monarchia e di repubblica si fronteggiano, pur condividendo l'obiettivo dell'unificazione nazionale. Altro scenario e altro binomio lega viceversa le due grandi città del Lombardo-Veneto, Milano e Venezia, rispettivamente connotate da un cittadino di progresso. La scelta e la fine del potere temporale della Chiesa rendono ancora più difficili i rapporti con lo Stato italiano, sancita da Pio IX con la formula non expert. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943, gli anglo-americani sbattono in Sicilia. Il 25 luglio 1943, Mussolini viene destituito e arrestato, sostituito come capo del governo da Pietro Ballone. Agli schieramenti politici condizionati dalle scelte di campo relativa alla guerra fredda tra est e ovest, si affiancano numerose rivendicazioni sindacali, per l'affermazione di un moderno welfare state, del tessile abbigliamento, del nobilio, delle calzature. In altri termini, la rivoluzione di 1946, al momento di decidere il simbolo della Repubblica, da stampare sulla scheda del referendum istituzionale, una testa di donna turrita viene preferita ad una R.